Inaugurata ieri a Parigi la Modernité Elegante, la mostra monografica dedicata a Giuseppe Denittis al Petit Palais. C'era per noi l'inviato Costantino Foschini. Proprio di fronte c'è la mostra di Monet, ma stavolta a Parigi c'è la rivincita di Denittis per più di un secolo, ingiustamente oscurato dagli impressionisti francesi che pure lo consideravano un maestro. Al Petit Palais, il più prestigioso spazio espositivo di Parigi, costruito assieme alla Tour Eiffel, fra i Campi Elissi e la Tomba di Napoleone, la grande mostra intitolata Denittis, la Modernità Elegante. Lui fu il pittore dell'ascesa della borghesia e della piacevolezza del vivere. Venata però di malinconia, Denittis morì a Parigi a solo 38 anni, al culmine della sua gloria e della sua arte, come gli eroi e i semidei, scrisse Dumas sulla sua tomba. Al cimitero di Perlachese, proprio accanto a quella di Chopin, poco distante da quella di Modigliani, qui sono sepolti anche Oscar Wilde, La Callas, Jim Morrison. La tomba è un po' in stato di abbandono. Beh, per la verità noi abbiamo scritto, personalmente ho scritto al sindaco di Parigi, perché sollecitasse il conservatore del cimitero a quelle azioni di manutenzione che permettessero di avere un decoro più accurato. 110 quadri, 47 arrivano da Barletta, per cui la mostra di Parigi è uno straordinario veicolo promozionale. Leontine, moglie parigina, ne lasciò 170, la città natale di Peppino. Gli altri arrivano da musei di tutto il mondo, dal Louvre a Indianapolis. E molti, mai esposti, da collezioni private. La luce del sud incontra a Parigi la luce dell'intelligenza, ha detto il presidente Vendola all'inaugurazione. Anche nella Parigi, fabbrica di eventi, un autentico evento artistico e culturale. La mostra di De Nittis, invece, riconosce un grande pittore italiano, divenuto francese, forse sarebbe meglio dire parigino, per elezione e per scelta, ma che incarna i colori e le atmosfere del sud dell'Italia. Quindi questa mostra, a mio modo di vedere, soprattutto con il carattere di riconoscimento, dopo più di un secolo di oblio, un valore particolarmente significativo.